ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco si sta in idratazione a cosa serve si sta in idratazione a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 è commercializzato in italia dall'azienda al con italia spa società socio unico informazioni commerciali titolare al con italia spa società socio unico concessionario al con italia spa società socio unico categoria di appartenenza dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y l'on 21 03 09 confezioni si sta in idratazione senza conservanti 10 ml indicazioni si sta né a idratazione collirio lubrificante ha indicato per il sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore e irritazione in persone che hanno sintomi da occhio secco modalità d'uso afferrare il flacone direttamente sotto il tappo e ruotare il tappo per aprire al primo utilizzo tenere il flacone con angolazione di circa 90 gradi ed eliminare la prima goccia di prodotto agitare il flacone verso il basso per eliminare i residui di prodotto si sta né a idratazione collirio lubrificante può essere usato secondo necessità durante l'intera giornata per alleviare i sintomi dell'occhio secco installare uno o due gocce nell'occhio barra negli occhi interessato barra e secondo necessità e aprire e chiudere le palpebre mentre si indossano lenti a contatto in caso di lieve irritazione irritazione fastidio odio fuscamento installare uno o due gocce nell'occhio barra negli occhi interessato barra e aprire e chiudere le palpebre due o tre volte dopo l'uso prima di mettere il tappo sul flacone agitare il flacone verso il basso per eliminare i residui di prodotto eventualmente rimasti sulla punta chiudere il flacone descrizione e caratteristiche si sta né a idratazione collirio lubricante a una soluzione sterile e senza conservanti contenente sodio ialuronato polietilene glicole 400 glicole propilenico idrossipropil guar sorbitolo amminometilpropanolo acido borico borato di sodio potassio cloruro sodio cloruro e acqua puricata può contenere acido cloridrico e barra o sodio idrossido per regolare il ph senza conservanti avvertenze è essenziale seguire le indicazioni dello specialista di fiducia e tutte le istruzioni riportate sull'etichettatura per un uso corretto del prodotto se si manifestano fastidio persistente agli occhi eccessiva lacrimazione visione alterata o arrossamento dell'occhio smettere di usare si sta né a idratazione collirio lubrificante e consultare lo specialista di fiducia per cac copyright il problema potrebbe diventare più a grave si sta né a idratazione collirio lubrificante non ha indicato per l'uso come detergente o disinfettante per lenti a contatto non immergere o disinfettare le lenti insistane a idratazione collirio lubrificante l'offuscamento temporaneo della visione o altri disturbi visivi possono alterare la capacità di guidare utilizzare macchinari in caso di visione offuscata dopo l'installazione attendere che la visione torni nitida prima di mettersi alla guida utilizzare macchinari fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato